ciao a tutti ragazzi come va come sempre che organista benvenuti un nuovo video e oggi come attitolo andremo a catturare di pokemon lavando i denti se sei nuovo sul canale ti invito a seguirmi su tutti i social anche perché siamo in live quasi tutte le sere dalle 9 giocando a che mongo vgc e tutto quanto la facendo casino insieme a voi e ovviamente come vedete sul canale portiamo competitivo in varie salse allora dopo che hanno annunciato pokemon slip e allora li ho flippato immagino anche voi ha detto no vabbè ma quante cacchi di robe fanno con i pokemon io sono un giocatore fisso di pokemon go ho detto vado in giro cattori poco ma ho scoperto che si possono calcolare anche lavandosi i denti con un'applicazione che si chiama pokemon smile scusate il cagnolino qui che abbaia dei coin qui per quanto riguarda ovviamente raga vi invito sempre il canale per le varie news di quello che succederà questo mese perché il canale cambierà un pochino e tutte le cose le problematiche che ho affrontato io penso di parlarvene sempre di più ma porteremo molti più vlog sul canale come questo raga non ci resta che andare a scoprire come funziona questa applicazione fighissima che io consiglio soprattutto a chi ha bambini per infottarli a lavarsi i denti farli venire voglia di lavarsi i denti se gli piacciono i pokemon sicuramente questa applicazione gli piacerà e sicuramente risparmierete tempo a convincerli a lavarsi i denti adesso andiamo a provarla raga quindi apre nel dentifricio mettiamo nel dentifricio e andiamo a lavarci i denti ea catturare vediamo che cosa esce un bel pokemon nino ovviamente ce ne laviamo con le cuffie i denti che cacchio ce ne frega si o no allora ovviamente a z quando vuoi contattami che facciamo la promo brothers via z un saluto d'arrivi iniziamo raga ad aprire l'applicazione che se mi lavo i denti senza appunto nell'applicazione aperta non è che è top la situa giusto sto aprendo l'applicazione fiori come vedete abbiamo una situazione dentistica e abbassa il volume ovviamente rega giochiamo ok bla bla ok ok avanti io l'avevo già giocato una volta ma purtroppo ho perso un botto di file video quindi ovviamente magari metterò un un frame dopo ma andiamo a spazzolare spazzigliamolo spazzigliamolo eccoci più ho scelto pikaccio non potete scegliere anche altri starter let's go mi dice che cacchio spazzolari qui è giusto e dice proprio dove attaccare il pokemon così per prendere vedremo anche che cosa uscirà tra poco comunque ve li fa spazzolari per un bel po è non è che cosa uscirà io bello eccolo a cambi passi eccolo si venga wow yeah c'è tutto qui raga vedete tutto street vlog fratello dei pokemon brother come avete visto sicuramente un'applicazione da tenere d'occhio divertente spero che video vi abbia divertito ne porterò altri così in talk veloce perché attualmente non ho troppo tempo per montare grossi video ma spero di parlarne più nelle news della settimana fatemi sapere cosa ne pensate come vedete ogni volta vi consentirà di catturare un po che non penso ci sia tutto il po che l'ex di canto da prendere fiori interessante argo vieni andiamo a salutare qui un saluto dal dito belle sito e ago cupetto non gli piace tanto stare in braccio a lui io vi saluto ovviamente dato in sapere cosa ne pensate tranquilli per chi segue agonista per il competitivo perché prima arriveranno altri video intanto vatti a vedere questo qui con le strategie va per pokemon go fratello ciao rega io